seconda giornata di lavori all'HR Director Summit all'interno di Business Leader Summit la settimana di incontri e confronti tra i manager e le imprese operanti in Italia e non solo per parlare delle nuove tematiche che guidano il mondo del business in questo momento vogliamo capire precisamente di che cosa si tratta quando si parla di agility e agile working e lo facciamo in compagnia di Fabian Corso che è HR Director di BNL buongiorno e grazie di essere con noi buongiorno e buongiorno a tutti allora che cosa significa realmente agile working? che cosa significa agility e agilità all'interno di questa nuova modalità di lavorare di questa nuova modalità di riorganizzare l'impresa? sì, allora io penso che l'agilità innanzitutto si integra in un cambiamento forte che vediamo accelerato direi dalla crisi del Covid dalle nuove modalità di lavoro e sicuramente la scelta che abbiamo fatto di voler fare l'agile ad scale, di generalizzare le strutture agile nella nostra azienda proprio entrano in questa considerazione che abilitano a percepire il cambiamento agilizzare il modo di lavorare perché è un metodo che sicuramente dà spazio a maggiore responsabilità, più empowerment delle persone e sicuramente anche una capacità di ingaggiare di più le persone l'altra cosa che l'agile è anche un mindset nuovo che sicuramente toglie le frontiere, crea la trasversalità tra i team aggrega le competenze genera ovviamente una capacità per ciascuno di svilupparsi all'interno di un tribe perché utilizziamo spesso questo termine ma sicuramente tutti questi sono fattori abilitanti in un mondo che sempre di più cerca di trovare una nuova identità a cercare sempre nuove esperienze e per questo che spesso quando parliamo anche di metaverso è una modalità che secondo me si coniuga bene con questa forma con questo new ways of working Ecco, dal metaverso alle nuove tecnologie essere agili come lavoratori tecnicamente non è sempre così facile servono nuove competenze serve un nuovo mindset come stavi dicendo anche tu serve una nuova cultura d'impresa quali sono gli spunti, gli aspetti più importanti quindi per un lavoratore come per un'impresa per approcciare nella maniera giusta il lavoro agile e una nuova impresa che punti all'agilità se consideriamo che l'agile ha come obiettivo di velocizzare di fornire sempre di più valore ai clienti finali perché è già la prima risposta è sicuramente la competenza numero uno è pensare come un cliente partendo del cliente si agevola diciamo la capacità di definire dei processi delle esperienze che creano valore ai servizi che offriamo dunque per me è sicuramente grande apertura e curiosità su come oggi i comportamenti dei clienti evolvono e dopodiché una capacità a lavorare in maniera trasversale e a non avere le sue idee essere innamorato delle sue idee ma invece cercare ad aggregare qualcosa che crea valore sempre con la finalità di andare anche più veloce perché c'è la dimensione del tempo l'agile deve velocizzare la nostra capacità a fornire dei servizi e quindi è tutto questo il mindset principale è uno che è curioso che è aperto che cerca di testare e che cerca sicuramente a creare un impatto positivo per i nostri clienti ecco infatti impatto positivo sostenibilità velocità e qualità sono elementi cruciali anche per dare valore come dicevi tu prima ai talenti perché oggi ai tempi della Great Resignation i talenti si devono riconoscere nell'azienda abbiamo visto che se non si riconoscono non rimangono e per poterli far riconoscere farli identificare nell'azienda per cui lavorano e operano bisogna valorizzarli ai tempi quindi nell'era diciamo dell'agilità come si valorizza un talento però? io penso che un talento sicuramente come l'hai detto ha bisogno di pragmatismo e ha bisogno di vedere dove vuole andare l'azienda è proprio per questo che l'agile con questo mindset aiuta a creare anche una cultura aziendale e dunque che cosa è meglio per un talento di capire i valori aziendali e l'agile deve l'agile sicuramente è un fattore abilitante dopodiché noi abbiamo pensato già da un po' di tempo che per sviluppare il potenziale dei nostri talenti bisogna creare una comunità di talenti e anche su questo che permette di andare oltre oltre solo la casella organizzativa e dunque per questo noi investiamo tanto tempo per i nostri talenti per sviluppare il loro leadership a creare la comunità a dirgli se tu sei un talento ovviamente dovrai lavorare in modo agile ma avrai diverse promesse noi ti promettiamo diverse cose formazioni nuove partecipazioni ai eventi a Catone avere anche un caring diverso della tua carriera perché sei un talento e dunque tutte queste promesse ovviamente mettiamo a disposizione questo set di questa offerta per i talenti e in controparte chiediamo ai talenti ovviamente di approfittarne di utilizzare questo asset che li mettiamo a disposizione e dunque c'è anche una forma di reciprocità io credo che un talento deve corriere questa opportunità e dunque noi ogni anno quando guardiamo un po' il bilan ci siamo impegnati loro si sono impegnati facciamo un bilancio e credo che questo crea anche rafforzare la loro capacità di essere ingaggiati nell'azienda ecco questo bilancio questo balance questo equilibrio come nella vita privata e lavoro così anche nel rapporto tra azienda e dipendente è sempre più importante da tenere in considerazione bisogna avere cura di questo equilibrio un bellissimo messaggio ti ringraziamo di essere stato con noi e di avercelo dato grazie mille e a presto grazie mille grazie mille grazie mille